Ehm, perchè non mettiamo paparazzi? Paparazzi! 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 Si è capito todo! Sto già registrando! Ehm... 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 Ok! Ehm... 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 Pagara mia tenta! Interviewio! Sì, 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 sì. è vero che lei sembra Sol del mondo di batti? un po' ci assomiglia oddio è tutto bene? credo chi vuole pizza con i mister? chi vuole pizza con i mister?